Ben ritrovati dalla redazione di News24.city. Taranto ricoverato e trovato morto fuori dall'ospedale tragedia nel giorno di Pasquetta al Santissima Annunziata. Bari vento troppo forte e albero precipita su camion ferito, autista, danni alluminarie e alberi disagi all'aeroporto Voitila, aerei dirottati a Brindisi. Salento tragico impatto sulla Melendugno, Torre dell'Orso morto e due feriti, l'incidente a rientro dalla Pasquetta, la vittima è una ragazza di 25 anni. Vigiano, petrolio contaminato in Val d'Agri nel Potentino, un arresto e un dirigente dell'Eni, società indagata con altre 13 persone. Monopoli mercato della droga nel Barese, arrestati tre pusher rinvenuti dai carabinieri, diversi quantitativi di stupefacenti. Puglia serie B, Lecce e Spugna 2 a 1, Perugia con la Mantia e Falco, tanti rimpianti per il Foggia, fermato sul 2 a 2 dal Livorno.